la vedo in video tutte le settimane per i nostri corsi ma oggi l'ho conosciuta di persona per la prima volta è stato bellissimo mi è piaciuta molto la convivialità che si è formata in un gruppo che non è mai scontata e giorgia ovviamente ci ha aiutato prima di essere qua era già come se ci avesse preparato questo incontro non è un allenamento che rimane fine a se stesso è un qualcosa che ha degli effetti proprio sulla vita quotidiana farò sentire una persona completamente diversa non solo fisicamente ma anche interiormente mi sento molto più energico più positivo se vogliamo dire una meraviglia sto benissimo sono rilassata emozionata mi piace e sconsolta